lì qualcuno morto ti bussiano ti spara vabbè non muoiono questi l'ing è dentro ho capito se non muore ragazzi ho il diffuser resta lì pari una botola a destra mi sa che qualcuno nini a destra plantano morto diffuser in sight morto morto vabbè ok ok è lì io ho il frizzer sto volando frizzer è lì da te Lorenzo? si è lì si era lì sotto occhio a frizzer frizzer era la mia di trappole cazzo l'avrò atterrato probabilmente qui ci vale uno in scale morto jackal morto jackal dov'è chi era amore? la scale vuole sotto guarda Flavio non riesco a prenderlo sarà nascosto nell'angolino guarda le scale che verranno a salvarlo morto Twitch un'altra sulle scale un'altra sulle scale c'è droppata ying ying è dentro ying è dentro stai guardando entrambi nella stessa parte guarda la scale Flavio è ancora lì ma perché non è andare a prenderlo ying sono il mio cadavere stai tirando su occhio occhio orta ying sono entrambi nelle scale dove guarda Flavio aspetta che provo a fare da drone niente da fare niente da fare pochi 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 da drone arriva arriva e che cazzo madonna e che cazzo madonna mi ha atterrato uno ma speravo fossero in due cazzo madonna abbiamo due droni e che cazzo madonna e che cazzo madonna è che uno lo ha atterrato dicole che era pochissima che te lo ha atterrato lì quando sei in posizione ti flasho flasho morto bello nini pingami il muro di volt cazzo madonna ma no con la batteria in mano sulla destra ma aspetta che arriva dove c'è mira comunque aspetta che morto bandit cazzo no vuoi vuoi il lion? altra parte si ma c'è il muro mi sa che l'ho fatto ok morta viena ok vedo termite drone in sight non sto guardando sopra aprono la porta di giallo morto back è entrato termite te lo pingo è ancora fermo lì è dietro è dietro è dietro del furgone ancora sono tutti qua arrivo ma ma ci va sta plantando vai vai spara uuuu grandi sotto 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 gioca nelle scale della torre grande l'ho visto in cucina lì non lo dronare morto vendi oh ti sta pushando c'è il jager anche e' in la zona da l'acqua da l'acqua e' in la zona e' questa qua da roba bravo bravo ecco l'hai chiamata è arrivata no uno è morto la finestra l'hai chiamata eh ma lì lì ho praticamente morto si 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 cosa dovevo fare qua ho atterrato uno c'è twitch ruota ruota però è il defuser si ma non ha non ha un cazzo di senso ah ma il capital montante è uscito da sopra con ali non è più imbarino non è più imbarino nene b pro il plantare oggi che c'è alibi bagno valkir e bagno sta arrivando il video non lo vedo l'altro side mi so vai o te lo copro io è l'altro side? no si si ti copro bagno ehi no dai vederlo io occhio che lui è di là si lo so morto mira morto morto rook morto debbie nollo libereria via doc bisogno scala rossa ce l'ho io prendere il lion scala su d'uno colta è clear custom ok c'è qualcuno inside raga ti ho detto a plantare ti ho detto a plantare in A quali? ma scusa eh proviamo a passare da dove passavano loro lì libereria pulita dov'è? ma dov'è? da quella posizione di merda fuori ingiuro ingiuro mute qua è una merda vabbè proviamoci dai non ho droni però devi dronare te vai raga che son dentro non sai dio ho preso una trappola di post c'è mute c'è mute che mi ha ucciso smock ma ucciso smock ma ucciso smock contro la parete morto oh dentro o è libero eh? si arrivo arrivo tanti ok una a me sinistra scusami eh vabbè mi ha ucciso thermite si spottano corridoio è una partita mira morta nomad è vicino a bot dove hanno thermitato morto bravo devoro anche l'altro lì mi sa bravi 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 ha fatto una kill abbiamo fatto fruttare la difesa sto giro meno male puoi aspettare un attimo che devo fare una cosa? hai però scusami vuoi non ci vuoi innanzitutto Grazie.